ho letto molte velocità comunque se si riferirò ai contenuti video ludici che viene portati nel gruppo devo dire ai nuovi arrivati che si è sconsigliato si è quasi vietato mandare video del genere perché distrae gli operatori meccanici metalmeccanici metalmesagri elettrici dai loro lavori che distrae la tensione e ora si chiama da una pressa un bianciere un video del 360 un 980 cara a no che brucia oppure al sfascia carrozza podoa no figa no figa una roba bella podoa porta di sua stella nuova e vale che si vedeva orco di vero non stanno e comunque tutto tutto ciò perché matti mattino che non è mia nuovo alle vecchie marchio tornavo in pazzi e ha fatto influenzare gravi in maniera molto grave degli ultimi arrivati è il primo messo in riga a dare ammissi in riga bene no sono capo e con il subito che ha preso brutta strada e ora cosa d'amore tutte anni ho fatto la quaglia tutto il detto dopo guardar chi video 4 mi ero mal di testa di ttg a sera mal di testa acqua del periodo stagionato del terremoto e perché si perché si vede che di ogni anno se ti sbrizza la mante e ti mangi un pugno su a fronte e capisci che quello fa mal di testa un po' dossi e tageria leggera di te che i baroni contro la stagionata anche il busto se è lungo 30 cm che io questo non lo posso sapere però è una cosa che mario ho detto mario non mette mette un po' di lubrificante e se lo trovi e sbrizza boom te batti la testa di quello che te fa male no la serie fa solo un veicolo la serie fa solo che metti no magari te hai una tega dei 50 cm mi ne posso sapere che dichiarazioni non mi sapevo 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 allora se l'ho fatto adesso almeno altre cose non le voglio sapere al momento dobbiamo fare la serie state fatto che mattia è serio duri a liberarti la mente però le voglio sapere io però queste cose siamo passati da matti che fa cose a cose strane le cose serie e le cazzate di due anni a seconda che bisogna fare bisogna ridare ehm che è che mi ha fatto sta cosa fa il comitato geni gay di questa realtà è vero dei comunisti eh che volta l'ha anche sono andata in provincia che sta che domenica l'ha anche la concessionaria Dio Dio che sono venuto male per andare fuori a ragazzi e a trappertutto Eh, errone ti chiesto, mi chiesto qualche volta un offene E si che si era venuto lì Ma vero, era mia zona rossa Era la provincia del Treviso? Perché erano le province? Eh, mi chiedevo concessionario sotto la provincia del Treviso, io rassassavava lui Quanto arrivo su qui Perché? Eh, che passaggio, ma è tutto Eh, nooo Si esce il rivolgo su un lato, picchia super sbara Ma che fosse 10 e 10 e Sara Ah, si potremmo attaccare e registrare che... Che sta un problema tecnico Che ha scalciato i tori e che ha invergolato i morti Beh, oddio Mi spettiamo un altro po' e mi passiamo pure a trevi Anche io con un minuto capato No, in mezzo a ferrovieva Poi che lo vievassemo qua Non d'accordo Cagava a spunso fuori dalle griglie No Cagava a spunso fuori dalle griglie Ma no, perché facendo così Se io faccio così Se io faccio così Sbucco de vacca in vera Sbucco de vacca Sbucco de vacca Oh, bisogna dare che si tolacca le vacche Ehhh Sbucco de vacca Sbucco de vacca Sbucco de vacca Sbucco de vacca Ah, aspetta che ho un'idea C'è un'idea Ah ma il famoso switch C'è un'idea di sbucco de vacca appunto perchè bisogna stare un po' più tranquilli guarda che c'è il microfono che si gioca in magneto ma lui si è passata cosita ai buyer madonna di dio ho portato un po' d'acqua alle mucche ha messo di salvare le mucche in pericolo comunque nico facendo riesco perchè bisogna tenerti in formazione si può evitare delle sigare però agrega di tua maniera il microfono perchè che piace via SM nooo oh per niente vai la che una mina no no il treno il treno sii si siccome dopo ritornerà anche Fabio no è necessario ahahah ahahah che delle richieste oh intanto rimango già a posto ahahahahah 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 se mi fa tutto registro io potro non registro i video ho fatto tutto per non fareci troppo perché lui lì le drio lui? le drio lucrare su diciamo in i miei video no ? è mai so allora ti chiedi lucrare su gli altri ma i ma in una volta su invece lui lucrare due volte Sì, e non va bene. Vado di sfruttarmi. Nico, facciamo i live su Twitch, dai. Facciamo i live su Twitch, dai, dai. Deve un trisomo su Twitch? Un trisomo su Twitch? Oh, c'è Marco ieri che aveva detto quindosa volta, è trisomo. Mi ha messo in testa, però. Eh, una pizzata da 3, vedete. Eh, no. No, potete dirgli, cerca su, qui. No, 3 uomo, Marco, 3 case. C'è qualche problema, Marco. C'è qualche problemino del libro qua. Dammi la porta. Ah, ma non si è fatto la porta? No. Marco, c'è un problema. Non si è fatto la porta. Dai, Marco, mi ha messo questa legge qua. In caso. Ah, mi ha senso... Allora, com'è che Conte metti il DPCM e ti è obbligo a stare a casa? Dai, Conte, ti è un disgraziato e ti vuol essere un disgraziato come lui. Sicuramente è obbligo a mantenere un più corretto comportamento, data la quantità di posizione. No, Nico, fai un sciopero, fai un sciopero. Sì, sì, fai un sciopero. Sparo in testa, non sciopero qua, perdi Adolfo. Ma Marco, ma cazzo, ma dai, mi è possibile... Arriviamo qua, assai. Eh, basta. Ok, vedo sempre peggio qua. Ma non mi interessa, ma fai meno ad averla. Sì, se parliamo fra noi altri. Esatto, bisogna dirne anche la parola, il diritto della parola. Dopo... Oh, no, Nico, dopo quando tu ti torneremo a andare al bar, la figa, se diventerà un moscio, Marco. Se ti spiazzerà, mi dice che oggi ne sapevo parlare. Oh, dopo, dopo, se ne sapevo parlare, sarebbe meglio. Se adesso non ho messo qua da solo, perché... No, ma dopo... Dopo vennerà fuori un altro virus, il compagno, e ora siamo qui un altro anno... Eh, le industrie lo stanno già sviluppando. Eh, lo stanno già sviluppando. Eh, in cinza, in azacata un'altra variante ancora. Vai, 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 ecco, ma... Ma dice che lascero, i fai video facendo casì, i padea, i fai video... i fai video... i fai video facendo casì. Ah, perché fai... e tutti fai skate facendo casì e ti marco, faccio un di schifo... Eh, sì, sì, sì. L'inversione di tendenza, si chiama. Ah, aspetta, mi mi auguro che te vanno il canale, te vanno il canale, te vanno la roba e viena. un po' che ti cercate proprio azzaro o comunque c'è una questione di rispetto verso la persona che mi chiede di parlare con ti Marco ciao se metti me io ti noto da fastidio è un bestemadrino Marco ciao dopo c'è poi parlare da me e c'è ancora non ho capito c'è c'è così c'è Gibeo così fai Marco c'è oggi quanto ti senti uno per l'altro che faccio che ho fatto ancora siccome Marco c'è un mio stessato dire ma non vese un mio Marco c'è se ti senti lo fanno soffrire non te li assi niente di dire che te fa noia siccome ci sono come state siccome ci sono state delle lamentelle eh beh e allora per per non andare a lucrare sulla salute di di qualcuno bisogna rispettare eh e è un maschio anche che mi è nato ah no? beh fai io si è nato non le dico oh bene beh di sicuro non so mi perché se le due le carte Marco siamo pronti e che passa la terza volta al treno una rota Dio ma giusto Marco? cosa? no che se il dance avverte i cancetti da stare a scampo di vacca eh Marco puoi bannare qualcuno gentilmente grazie io voto per PODOA ahahah affanculo anche perché le tre le tre sta lucrando beh Marco lucra sui di me da otto anni ormai beh stasera non ti fai un cazzo da lì che ti scopa malmente stasera il mortorio stasera perchè l'è la? no pensavo che dovrei espanderli qua ma li qua meno di netti io fai il mito marzo ahahah non ti fai la mezza puttanato dai non sto capo per niente e perdonami eeeeh se potrei dare dare uio al lavoro e vada eh diragoso eh esatto e li porto via anche roba del fine al giorno e tutto tanto per dirà eeeeh non lo so eeeeh che cazzo stasera facendo? non lo so no so sta oltre si sta sotto e toglie oltre a parte che adesso si occupa da bioni e fasciati dopo che sei qui da bioni e fin serve un'altra zona proprio da bioni e paia resta si può mettere la tre per cui ah beh tu hai messo il blocco certo è che arriva due o tre arriva troppo eh eh dopo spendo pari usati qua ho detto quei sui commenti che hai scordato che siiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii io gli ho fatto ho detto che sono aumentato non sono sempre quelli si madara no no madonna mare cazzo 6.20 6.20 kabbè che cacchio era? Bene caro iscritto, ora si devono vendere i soldi. Ma ora sei silenzio lì di fronte. Mi saluto. E con questo abbiamo concluso, grazie dell'attenzione e arrivederci. Grazie.